x in segno del pari quello che mette d'accordo tutti non è un caso che sia su questa fiat 500 x perché potrebbe veramente essere l'auto trasversale quella che mette d'accordo tutti simpatica pratica ma anche modaiola divertente oggi la proveremo insieme sulle colline attorno a torino e in centro città andiamo la storia di questo modello oramai è ben conosciuta è una crossover lunga 4 metri e 25 che nasce in italia nello stabilimento di melzi in basilicata è quasi un parto gemellare con la jeep renegade che tra parentesi proveremo a fondo nel prossimo numero di quattro ruote con la quale condivide lo stabilimento e il progetto comune però anche se nascono da questo progetto comune in realtà ci sono tantissime differenze che fanno della 500 x una fiat a pieno titolo è elegante nella linea ma anche dinamica e sportiva e colpisce in particolar modo il posteriore spiovente non troppo verticale con un bel portellone a tutta larghezza per il carico la capacità dichiarata è di 350 litri compreso il doppio fondo e il muso poi è quanto di più 500 si possa immaginare con gli oramai famosi bassi che hanno contribuito a creare un'identità fortissima quasi una marca a sé stante all'interno del brand fiat tra l'altro la 500 x sarà una vera world car visto che verrà venduta in più di 100 paesi al mondo comprese gli stati uniti il motore che stiamo guidando è il multijet da due litri 140 cavalli un motore che ha carattere un motore che si fa sentire un po' su questa salita quando vengono in estate le marce basse a proposito di marce la macchina ha il cambio a nove marce zf automatico con un software completamente rivisto e finalmente ha trovato una sua giusta dimensione non ha salti marcia non ha bruschi passaggi di rapporto da una parte all'altra e nel kick down è prontissimo oltre ad essere un buon automatico è anche un buon cambio che si può utilizzare in modalità manuale e questa volta ci sono le palette dietro al volante per una guida ancora più sportiva è una macchina che ha un autotelaio estremamente rigido si sente che con questo tipo di scocca fa lavorare benissimo le sospensioni è perfettamente isolato dal suolo e riesce a essere anche molto brillante sulle curve lo sterzo risponde bene velocemente senza indecisioni e senza imprecisioni di nessun tipo non ha zone vuote al centro ed è anche molto leggero in manovra per disimpegnarsi bene quando si gira in città ma anche guidarla in collina sulle strade con tante curve è un vero piacere i cambi di direzione sono rapidi e veloci sotto questo aspetto come detto all'inizio la 500 x concilia davvero i gusti di tutti quelli che vogliono una crossover da città con la guida alta e dominante e quelli che non disdegnano qualche escursione in fuoristrada visto che la trasmissione è di primo ordine e si può scegliere tipo di terreno in funzione delle necessità è davvero bella la sensazione di compattezza di questa macchina si sente che fa lavorare molto bene le ruote e che sono alte che garantiscono anche un'escursione importante della sospensione è un asset intermedio fra morbido e rigido ma si sente che lo sterzo lavora bene sulle ruote anteriori beh ci mancherebbe altro che non lavorasse bene questo esemplare alle gomme da 18 pollici quello che si percepisce di più però guidando la macchina è la sensazione di qualità la costruzione è veramente accurata i materiali sono piacevolissimi per esempio questo della plancia è un materiale goffrato e morbido che è veramente piacevole da toccare e un po tutti i dettagli le ricoperture le verniciature sono veramente fatte a regola d'arte la 500 x va in vendita da gennaio e per quel che riguarda i prezzi già si conoscono quelli dell'edizione di lancio che parte da 17.250 euro per la web edition e arriva a superare di poco i 30.000 euro per questa versione cross plus al top della gamma una vera premium per qualità e raffinatezza meccanica la 500 è lunga 4 metri e 15 cioè un bel po di centimetri in più rispetto alla 500 normale e infatti le due non hanno niente in comune i primi 100.000 è vero hanno visto molta autostrada ma successivamente la 500 è stata molto in città e su strade statali